L'ultima edizione di Stadionese Studio, Marco Gullà. Il passato che ritorna e che prova a fermarti. Francesco Guidolin e il Palermo, una storia puntata, bella e brutta, ma sempre una storia importante, come due innamorati che si sono amati, si sono lasciati, si sono ripresi, per poi lasciarsi di nuovo, e che in un giorno di inizio febbraio si rincontrano, pensando a quante cose hanno fatto insieme. Questo è uno dei temi della partita di oggi al Barbera tra Palermo e Parma. I rosa-nero sono ormai la copia di Delio Rossi, lavorano bene, giocano bene, nessuno parla più di obiettivi, ma in caso di vittoria, oggi pomeriggio, sarebbe ora. Movo Oliverani squalificati, Balzaretti recuperato, Delio Rossi ha già in mente la formazione che schiererà oggi pomeriggio contro il Parma. Sirigo andrà in porta, difesa, Cassani sulla destra, Chier-Goyan al centro, Balzaretti sulla sinistra, centrocampo, al timone non c'è Liberani, il Palermo giocherà senza regista ufficiale, ci saranno Nocerino, Migliaccio, Bresciano e Pastore trequartista. In avanti è la coppia Micoli-Cavani. Sempre fiducioso, avanti così, sentiamo le parole di Delio Rossi in vista della gara di oggi pomeriggio tra il rosa-nero e il Parma. Io ho sempre sensazioni positive, ho visto la squadra allenare, secondo me sta bene, domani ce la giochiamo, sapendo che giochiamo con una squadra esperta, che per un certo periodo del campionato è stata la vera rivelazione. Ce la andiamo a giocare con le nostre armi, consapevoli che giochiamo contro una buona squadra, però ce la andiamo a giocare da Palermo. Questa è una squadra importante, è formata da giocatori esperti, quindi mi aspetto una reazione. Ma al di là di questo, io mi aspetto un Palermo all'altezza della situazione, perché l'altro è dopo il scontato che verranno sempre a fare la partita della vita. E la sua partita, Francesco Guidoline contro il suo passato, sentiamo alcuni stralci della sua conferenza stampa. Abbiamo potuto lavorare, abbiamo riguardato alcune cose, si stanno inserendo i nuovi acquisti. Io credo che il ritmo partita non si possa perdere per una sosta di una domenica, insomma. Quindi dobbiamo cercare di fare le partite che il Parma ha fatto fino a un mese fa. Per il presidente del Parma, Tommaso Ghirardi, la partita di oggi pomeriggio per i Ducali è quella del rilancio. Questa è un'occasione per vedere insomma di che pasta siamo fatti, perché dopo un girone d'andata ottimo abbiamo un pochino perso i colpi in queste ultime gare. E credo che adesso sia l'occasione giusta per vedere quelle che sono le nostre potenzialità, quello che è la nostra voglia di continuare a stupire o al contrario avere difficoltà per il prossimo campionato. Per tutte le altre notizie stagionista.it